Vediamo, quando è nato l'UIL, 18 agosto del 65, 18 agosto del 65, sempre 8, quindi 65, quindi siamo multipli di due, una situazione di due, quindi uno e due, uno e due, uno e due, e il ritmo della sua nascita, 18, 8, 65, quindi tu sei ai 56 anni, 53 anni non li dimostra, sei un ragazzino, fantastico, questo è un ragazzino proprio, sta perdendo completamente la connessione, senti, la connessione con i pensieri, va via, oh meraviglioso, è leggero adesso, perfetto. Grazie.